Che cactus fai? Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci Xyuderone. Dai! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Xyuderone e ragazzi voglio farvi vedere la posizione del nuovo fortbite appena uscito. Nonostante siamo in vacanza noi non ci perdiamo d'animo e facciamo il nostro dovere. Bisogna utilizzare il piccone sbriciola bunker per rompere la pietra nel punto più alto del vulcano ragazzi. Quindi vado nel punto più alto del vulcano ragazzi. Anch'io sono convinto di non trovarlo ma penso e spero di trovarlo. Questa mi sembra la parte più alta. Secondo me è qua. Secondo me è qua raga c'è una pietra da sola qua. Vediamo se ci prendiamo. Non può essere qua raga. Grande! Fortbite numero 80 preso ragazzi. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in live tutti i giorni per questa settimana alle 14. Ciao!